L'ultimo stile di leadership è quella autoritaria. Secondo Goleman la meno produttiva. Una volta era normale pensare che un imprenditore arrivasse in azienda e dicesse ai suoi collaboratori di fare questo, di fare quello senza dare alcuna spiegazione. Oggi ormai è una conoscenza consolidata che non si ha lo stile invece più produttivo. C'è solamente un momento in cui questo stile diventa veramente efficace ed è nei momenti di crisi. Ci sono situazioni in cui in azienda bisogna decidere le cose velocemente. Quindi avere in questo caso uno stile autoritario diventa importante per risolvere velocemente una situazione che potrebbe diventare dannosa. Dopo questo ultimo video abbiamo definito tutti e 5 gli stili di leadership. Quello visionario, dell'allenatore, il federatore, il democratico e l'autoritario. Per essere veramente efficace con il tuo team dovrai imparare a mixare in maniera intelligente questi cinque stili insieme.